c'è un agguato preparato per tempo con tutta una serie purtroppo di complicità costruito in maniera assolutamente mirata doveva scattare quel giorno e solo quel giorno tassativamente perché ovviamente quella era la firma sulla matrice insomma della del fatto c'è tutta un'attività preparatoria molto mirata ma subdola maria non si accorge assolutamente di nulla e quella mattina quando arriva diciamo convinta di far fronte alla l'inconvenza che aveva insomma in animo di portare avanti in realtà si trova davanti questo commando di delinquenti che la tramortiscono la portano via e poi insomma le fanno fare sicuramente una fine terribile a a a a